O muori da vlogger, o vivi abbastanza a lungo per diventare un gamer. Allora io, piuttosto che diventare uno squallido, putrido, falso, meschino gamer, preferisco morire da vlogger, portando la verità qui su Gotham Tube. Qui su Gotham Tube è successo qualcosa di davvero vergognoso, ignominioso. Solo i gamer possono impotridire così tanto l'aria che a me piace invece di questa community. Una community dove se si respirasse verità, trasparenza, saremmo tutti più umani. Sarebbe una bella community, invece no. Dobbiamo avere questi gamer, affaristi, che ucciderebbero a sangue freddo per un penny, per un centesimo. E simbolo in questi ultimi giorni di questo atteggiamento, di questo modo di fare gamer, e un villian che purtroppo è arrivato qui sulla community e ha nuocciuto una vittima. Ha purtroppo fatto una vittima. Ed è Joker. Il Joker. Joker. Puoi dire la verità? La dirai. Ma non penso spontaneamente, hai bisogno di Batmello. Adesso io non posso mostrarmi totalmente in volto per proteggere la mia identità. Ma voglio raccontarvi quello che è successo. Video numero uno, lo troverete qui sotto in descrizione. Un ragazzo molto giovane fa un video. Fa un video parlando di uno spacchettamento, di spacchettamenti di FIFA, ormai sapete bene cosa sono, di Joker. Fa riferimento ad alcuni suoi video dove trova Messi e Cristiano Ronaldo. Come sapete, negli spacchettamenti di FIFA, Messi e Cristiano Ronaldo sono quelli che sono più rari. Sono quelli che, se li trovi, ti fanno fare un botto di visualizzazioni. Questo ragazzo ha un grande spirito critico, educazione e pagatezza. Fa un video, ripeto, lo troverete qui sotto come video uno, dove appunto parla di questi spacchettamenti. Nota qualcosa di strano, un montaggio un po' particolare. Che il buon Joker non abbia mai trovato quei giocatori? Che il buon Joker, Messi e Cristiano Ronaldo, non li abbia mai spacchettati? Non è questo il punto. Io ritengo che sia possibile fare intrattenimento. Già mi fa cagare questo intrattenimento. Che poi sia intrattenimento di basso livello non conta niente. Non conta assolutamente niente. Questo è un mio gusto. Ma io ritengo che si possa nascondere qualcosa. Che si possa creare una finzione al fine di fare intrattenimento. Quindi se Joker ha trovato o non ha trovato Messi o ha trovato o non ha trovato Ronaldo, a me interessa quanto, quando mi sveglio la mattina, quante sono le formiche che alpesterò quando uscirò di casa. Questo è il mio livello di interesse per questa piccola o grande menzogna. Dipende un pochino da chi guarda. Certo, magari gli iscritti che ritengono la lealtà e la sincerità un valore potrebbero reputarla una cosa importante. Per me che la menzogna è uno dei valori più belli, che mi esalta, io ritengo che non sia così importante. Però c'è un problema. La menzogna deve essere fatta per rendere più semplici le cose, per fare delle cose positive, non per fare delle cose negative. E con la sua menzogna, perché Joker ha risposta a quel video, e il video troverete qui sotto, anzi forse il primo video appunto non c'è più, Joker risponde a quel video facendone uno dove dovrebbe dimostrare il fatto che erano tutte invenzioni quelle del ragazzo. A seguito di questo video i suoi fan si scatenano contro il video dove il ragazzo appunto smonta tutto. E c'è un secondo video del ragazzo, quello lo potete trovare, dove lui piange sconsolato per tutte le minacce e le offese date ricevute. Ok, ecco che cosa portano i videogiochi. Gente insensibile, con la minima capacità di empatia, gente butta... Questi sono bambini che i loro genitori non li volevano. Ok, questi bambini sono odiati dai loro genitori, e allora Joker, questo William di YouTube, un manipolatore, ok, facendo quel video sapeva di scatenare questi frustrati odiati dalle loro famiglie sbattuti davanti ai videogiochi contro questo ragazzo. Perché quando la tua famiglia non ti vuole e ti sbatte davanti ai videogiochi, ok, tu non diventi... perdi l'empatia, la capacità di stare a contatto con gli altri, con le persone, e quindi le aggredisci, perché con gentilezza, con umiltà, è sollevato un dubbio. Ha un dubbio, ha una domanda, anche un'affermazione che però è tranquilla e cerca di portare una discussione buona. Si risponde con educazione, cari mentecatti. Lo so che la folia del Joker, che ha infestato Gotham Tube, ha infestato anche voi, ma non è colpa solo del Joker, è anche colpa di altri William, come ChooFaceGabbo, oppure come SodinPinguino e tutti questi altri William di YouTube. Ma, ripeto, sono qui perché vi voglio dimostrare come questa gente sia disposta a creare odio contro un ragazzino educato e con un buono spirito critico per conservare la loro facciata di menzogna. Allora andate a guardare il video del Joker di risposta. Guarda caso, tutto il video viene fatto in un modo, ok, per far vedere che lui è primo proprietario di tantissimi giocatori e guarda caso, tutti quei giocatori hanno zero partite con altri Krabb, sono primi proprietari, unico proprietario. Alla fine di quel video, guarda caso, alla fine di quel video che la critica del ragazzo era mossa proprio agli spacchettamenti di Ronaldo e Messi, guarda caso, lui si ricorda soltanto alla fine del fatto che doveva far vedere Messi e Ronaldo. Li fa vedere che cosa ho scoperto, analizzando attentamente il video, che quelli sono fermi immagine, sono screen, non sono momenti del video che lui sta riprendendo e ve ne accorgete perché non ci sono animazioni di sottofondo, non ci sono, e guarda caso, quel Messi che compare alla fine di quel video non è lo stesso Messi che compare nello spacchettamento di Messi. Sono diverse le date di scoperta del giocatore, guarda caso, Messi ha dei giochi, dei gol, delle partite fatte con altri club quando viene detto primo proprietario, unico possessore, uno solo. Tant'è vero che io ho provato, anzi, con l'aiuto del mio fido, della mia fida a spalla, White Robin, sono riuscito a capire che probabilmente lì c'è un piccolo fotomontaggio. potete vedere lo screenshot che vi mostrerà la linea che dovrebbe seguire gli schermi dei due giocatori, noterete che primo proprietario in realtà ha qualcosa di strano, cioè un pochino spostato più a sinistra rispetto all'altro primo proprietario. Andateci a guardare, ovviamente le date sono diverse, quindi non stiamo parlando degli stessi giocatori con matematica certezza, con matematica certezza, e anche nei video successivi, Joker non ha spiegato niente, ha totalmente evaso qualsiasi risposta definitiva che potesse servire a capire che lui è proprietario di Ronaldo e Messi. Io vorrei vedere un video dove lui in live con il cellulare, apre il computer senza il minimo taglio, mi fa vedere il club e mi fa vedere quel giocatore che ha. Quindi, siccome Batmello è per la giustizia, non è per appendere le persone in pubblica piazza, quello è un momento che arriverà dopo quando scoprirà la verità, dà Joker la possibilità di dire la verità e se la dirà tutto sarà risolto, però Joker se tu non mostrerai in diretta live il tuo club e ci fai vedere mentre vai verso il giocatore lo apri, non hai risolto niente perché tu hai detto una menzogna e hai messo nei guai quel ragazzo, però hai una morale e si vede hai tu al contrario di quelli che ti seguono un minimo di empatia perché una persona senza morale senza empatia avrebbe devastato quel ragazzo invece io mi sono accorto e di questo te ne do atto e ti faccio i complimenti che non te la sei sentita di buttarlo in merda completamente e lo sei andato là diciamo a ringorarlo e hai potuto sbagliare e l'hai incoraggiato quindi io mi complimento perché nella menzogna che hai causato da quel ragazzo hai cercato di rimediare questo è positivo e Batmellow ne tiene conto però quelle lì non sono niente poco di meno che screen quelli del tuo video non sono vere animazioni della dello schermo Joker ma pensavi davvero che Batmellow non si sarebbe accorto di questo no ma la community ha lanciato il bat segnale Batmellow l'ha colto sei stato scoperto di la verità perché comunque hai cercato di proteggerti ma di proteggere anche quello che veniva danneggiato e di questo ne devo tener conto un bacione dal tuo Batmellow ma sono Viclade o Batman vabbè uno e due ciao